il Lornano Badesse per tornare alla vittoria che manca dalla seconda giornata contro il Follonica Gavorrano era il 4 di ottobre e finì 3 a 0 il Trastevere invece per confermarsi una delle migliori di questo girone e di serie D dal Daniele Berni di Monteriggioni e Lornano Badesse Trastevere sesta giornata di campionato davanti Fontana Milani e Crescenzo partita intanto la gara attenzione a questo passaggio attenzione Riccobono Riccobono poi c'è un calcio di punizione c'è un calcio di punizione per il fallo su Casagrande Cingolani ma ha rischiato enormemente qui il Trastevere dall'altra parte per Bertoldi uno contro uno Bertoldi attenzione alla sovrapposizione di Rizzi il traversone riesce a liberare il Badesse ma ancora il Trastevere con Massimo la conclusione alta Riccobono col sinistro pallone in mezzo attenzione non la tiene Cingolani Casagrande Cingolani chiama uno schema Sorrentino balla in mezzo il colpo di testa di Maganelli e poi e poi è Manganelli Manganelli che ha mancato la deviazione vincente al ventesimo pallone calciato in mezzo proprio a cercare Giordani molto attento Lombardini ci mette pugni non rischia allontana il pallone e poi Massimo riconquista lui il pallone allarga per Bertoldi Castellani in ripiegamento difensivo attenzione ancora la conclusione col destro era Crescenzo che già aveva provato poi Guidelli per Sorrentino sovrappone Guidelli non si libera del pallone Sorrentino allora riconquistato la palla il Trastevere che prova a spingersi in avanti con Crescenzo Crescenzo dentro per Fontana il destro Lombardini chiude la porta sul suo palo bravo Lombardini arriva Guidelli il traversone di Guidelli Sorrentino non la prende allora Riccobono Riccobono il sinistro poi destro non è il suo piede va da Frosinini area di rigore Frosinini 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 finisce giù poi Crescenzo attaccato da Bedin bene sulla destra per Bertoldi uno contro uno con Discepolo ancora Bertoldi entra in area rigore Bertoldi Bertoldi il cross non la prende nessuno poi sul secondo palo arriva arriva Tancredi che mette fuori Tancredi al trentaseiesimo va adesso in avanti qui sulla corsia di destra con Gianni Riccobono Riccobono situazione di uno contro uno entra in area Riccobono Riccobono finisce giù finisce giù Riccobono lascia proseguire il direttore di gara rimane a terra Riccobono Massimo col destro e c'è il gol il vantaggio del Trastevere ha segnato Massimo su questo calcio di punizione non c'è arrivato Lombardini ecco qua partiti e l'ingresso di Sordilli vediamo Massimo se mette in mezzo calcio direttamente in porta calcio in porta Massimo alto Bedin subito la pressione di Sabelli palla persa attenzione uscita dal badese Crescenzo Crescenzo il sinistro alto sbaglia Quidelli sbaglia anche Giordani allora Motti recupera il pallone il tocco per Corsi uno dei primi palloni di Corsi Corsi entra in area di rigore Corsi Corsi il cross Riccobono Motti non riesce a calciare poi Sorrentino Sorrentino il sinistro alto al 19 sfiora il pareggio il badese con Sorrentino attenzione a questa palla persa da Discepolo poi il tocco in profondità di Massimo in direzione di Sordilli Sordilli diagonale Sordilli palo e poi e poi Lombardini il palo il palo di Sordilli Bedin subito in avanti aveva il tempo di stopparla preferito andare subito in verticale poi Sabelli poi Ghinassi fase un po' confusa alla fine Crescenzo per Bertoldi Bertoldi area di rigore messo giù rosso per Manganelli rimane in dieci il badese c'è calcio di punizione quando siamo al trentatresimo del secondo tempo rosso per Pietro Manganelli Corsi il destro conclusione in prosvisa quella di Corsi torna da Gianni Riccobono area di rigore Riccobono pallone in mezzo per Motti lo stop spalla la porta Motti se la porta sul sinistro il tiro fuori Sabelli Sabelli il tocco per Tagliarol lo aspetta Ghinassi c'è la sovrapposizione poi attenzione Sabelli e mette fuori Sabelli mette fuori al novantaquattresimo tutti a saltare Riccobono in avanti a cercare Ghinassi colpo di testa di Ghinassi arriva Casagrande Cingolani non difficile intervento per lui e su questa parata di Cingolani su questa uscita di Cingolani si chiude così la partita l'ornano badese zero tra Stevere uno ha deciso al quarantunesimo del primo tempo un calcio di punizione di Massimo di Cingolani si chiude di Cingolani si chiude di Cingolani si chiude di Cingolani si chiude di Cingolani si chiude